Non riesco a fermare più, com'è Nunzio? Buongiorno, buongiorno amici di Kikriki, buongiorno a tutti, bella giornata, si fa per dire, nuova puntata oggi di Kikriki Normal, Kikriki non più Skype, il format normale, qui da Altamura Perché avete visto, stamattina ho iniziato, anche se il militare non l'ho fatto Non l'ho fatto, però so come si marcia, più o meno dove mi trovo stamattina? Io penso che parecchi altamurani lo sapranno, per chi non sa, per i giovani che non conoscono la storia, posso dire che questo è il campo 65 Vedi, questa è la scritta ancora storica, come regge Campo 65, campo profughi, in pratica durante la seconda guerra mondiale, molti profughi provenienti da diverse nazioni, non soltanto italiane Mi sa che qua vengono ancora i figli, che i loro padri, mi sa, americani, canadesi, non so E quindi c'era questo campo profughi, qui c'era probabilmente un cancello che separava questo campo profughi dal resto della città di Altamura E qui c'è quella torre, forse era una torre di ispezione, qui ci sono degli immobili E in fondo ci sono proprio dei capannoni dove questi poveri profughi durante la seconda guerra mondiale erano ospitati per modo di dire E quindi ci siamo recati qui e io mi sono reso conto, Nunzio, scherzi a parte, ma dicono i giornalisti, la stamba nazionale Io non voglio ripetere le stesse cose, che Altamura è una città a vocazione turistica, storica, culturale Allora dico, scusate, qui abbiamo un piccolo patrimonio storico, cioè questa è storia, questa è la nostra storia Cioè risalente a 80 anni fa, cioè non stiamo parlando di ventre Quindi è un frammento, sono delle pillole di storia qui ad Altamura, il campo profugo Profughi, allora io dico, a Hockenheim hanno restaurato, ristrutturato tutto Ad Auschwitz lo stesso, in altre zone anche dell'Italia dove ci sono dei piccoli campi di concentramento Li hanno ristrutturati, li hanno valorizzati per conservare la memoria storica, la nostra storia E quindi tutti gli anni migliaia di scolaresche, turisti vanno proprio in questi posti della storia, della nostra storia Qui se vedete ci sono questi capannoni con i solai appunto crepati, ceduti Quest'altra struttura qua, che forse doveva essere il quartiere generale, perché c'è proprio una palazzina C'è proprio scritto immobile, pericolante Lì quella torre in fondo, Nunzio, vedi, è caratteristica, appartiene proprio all'architettura dell'epoca Cioè qua avete, come dire, la vocazione storica, turistica, culturale Però qui, non possiamo dare la colpa a queste amministratori, per l'amor di Dio Qua dobbiamo fare la dietrologia Qui già i sindaci, che ti posso dire, degli anni 60, anni 70 Ma all'epoca la cultura non si conosceva, nel senso che si badava più all'essenziale Dovevano già iniziare, dovevano provvedere al restauro Adesso, per dire, si parla di vocazioni turistiche, si parla di arte, di cultura Dico che questi amministratori dovrebbero muoversi Allora, il comio del politico qual è? Il comio del politico è anche quello di trovare i soldi per poter migliorare la qualità della vita dei propri cittadini E per sviluppare la propria zona, in questo caso specifico di Altamuro Quindi si devono muovere i nostri amministratori locali, regionali Per far sì che i propri centri, le proprie città si sviluppano in maniera, diciamo, culturale, economica Lo sviluppo, diciamo, delle attività commerciali, artigianali E perché no, anche il turismo, la cultura e la storia Qua, cioè io non dico chiacchiere Ma qua, rimesso a nuovo Ristrutturati i capannoni in un certo modo Poi magari fare anche un po' di scena, tipo Cinecittà Mettere, non lo so, alcuni attori, alcune comparse vestite da tedeschi Con le moto dell'epoca Con dei filmati Adesso si parla tantissimo delle videoproiezioni Cioè una cosa veramente fatta bene Ma sai che richiamo turistico che c'è qua Ma io non so Ma Giordano, io ci faccio il fantasio No, lo so, perché lo hanno fatto in altre nazioni d'Europa Nel mondo fanno una cosa del genere Cioè voi avete un patrimonio del genere Un campo profughi Che non è proprio raso al suolo È facilmente, come dire, restaurabile E utinitrassica a morire Ogni anno che passa scompare una memoria storica Scompare la memoria culturale della nostra storia Cioè della Seconda Guerra Mondiale Ma non lo so, io faccio un appello All'assessore regionale All'assessore comunale Del Comune di Altamura Cioè vedete come sta a fare Trovate i soldi Fondi Fes I POM I PUM I PAM Qualsiasi cosa però Cioè io già immagino Questo campo profughi Tutto riattato, restaurato Queste palazzine Restaurate con l'architettura E con i materiali dell'epoca Cioè una cosa Con un ristorantino Sempre dell'epoca Cioè Si può fare Cioè è possibile Che devono essere sempre i privati Poi che devono avere l'iniziativa Per fare una cosa del genere E il pubblico Diciamo Non ha tanto l'interesse O come dire La competenza Per poter fare una cosa del genere Vabbè Ripeto Gli storici ci sono Per dare un ausilio Un aiuto per far sì Che questa struttura Venga restaurata E venga consegnata Alla cittadinanza E questo è comunque Un Come dire Un patrimonio culturale Ed è anche Diciamo Come dire Un bel Pozzo Per aumentare Il prodotto interno lordo Della città Di Altamura E non solo Vabbè Ma sta città Da sì Vabbè A discarica Si a discarica E infatti Diciamo che mi sono dilungato Ho fatto una prefazione Per sponsorizzare Per pubblicizzare Questo campo profughi Ripeto Anche per le scolaresche Le scuole È storia Cioè invece di studiare La storia Sui libri O sullo smartphone Far toccare con mano Ai giovani Per farli capire Che cos'era Che cos'è stata la guerra Che cos'è la guerra Che cos'è il razzismo Cioè È più Più chiaro di così Cioè proprio Toccare con mano La storia Però a chi Non ne può fregare Dei meno Allora Il problema oggi Non era il discorso Della struttura Da restaurare O quindi Da consegnare Alla cittadina No È che qua Come potete vedere Dalle immagini Che non sono immagini Dobbiamo ringraziare Il signor Bellarosa Luca Bellarosa Che saluto Che è un noto Fotoreporter Molto attento Ai problemi Della propria città E quindi Diciamo che lui Svolge Più o meno Lo stesso lavoro Che facciamo noi Però lui Lo fa per passione E quindi Essendo anche Un fotoreporter È anche molto preparato Anche nella realizzazione Di foto E immagini Infatti adesso Stanno andando Le immagini Del fotografo Bellarosa Ah da questo lato No io sono mancino Da questo lato E come potete vedere Da queste immagini Questo campo a profughi È una vera e propria Discarica Una discarica Pericolosa Perché Qui oltre a trovare Il materiale di risulta Dell'edilizia Infatti non so se avete visto Ci siamo allontanati Di parecchi metri Ci sono depositi Di amianto Infatti Come avete potuto vedere Qui sulla mia destra In queste immagini Del signor Bellarosa Potete riscontrare Cumuli e cumuli Di amianto Aspetta che Noi Facendo un sopralluogo Con le mascherine Con i vetri chiusi Della macchina Abbiamo visto Nel circondario Di questo campo Pro Altri cumuli Di amianto Noi non sappiamo Se questo è amianto Che è stato trasportato Dagli altamurani Sporcaccioni Oppure faceva parte Del solaio Delle coperture Dei capannoni E quindi poi è stato rimosso Non si sa Perché Non si siamo avvicinati A dire il vero Poi non siamo noi Che possiamo analizzare Per constatare La data Diciamo Di quest'amianto L'età di quest'amianto Dico soltanto Che è una cosa Vergognosa Cioè Avere un patrimonio Storico Qui Tra l'altro Io non lo sapevo Me l'hai detto Cioè A patrimonio Adibito A discarica Di materiale Altamente Inquinante Altamente Nocivo Alla salute Vabbè Come si può fare Una conoscenza Una conoscenza Per far sì Per far sì Che possa essere A vocazione Turistica Storica Culturale Però Io vedo che qua L'uomo di Altamur Amministratori Di buona volontà Che poi si possono fare Anche Diciamo Adesso non mi viene Nel termine Vabbè Che si dà In concessione Per tot anni Ai privati I privati Provvedono Con i loro soldi Alla struttura Alla costruzione E poi Per tot anni Gli introiti Devono essere Dei privati Aspetta Un termine inglese Ci verrà Sicuramente Ci verrà Sicuramente Uteni sulla ponte Vabbè Se mi viene Ve lo dico La prossima volta Vabbè Nunzio Le immagini Sono andate Del buon Bellarosa Sono andate Anche le immagini Della camera car Per far vedere I capannoni La struttura Diciamo Di questo campo Profughi Io sto pensando Sempre a come Si dirà La cosa Vabbè Nunzio Ci vediamo domani Con una nuova puntata Per oggi è tutto Amici Dal campo Profughi Di Altamur È tutto Salve buono